Dunque, allora fratelli, tra qualche minuto vi farò Feltri. Ora, questa settimana è stato assegnato un premio molto importante per i giornalisti. Il premio si chiama E' giornalismo. Un premio che Feltri detesta quasi quanto striscia la notizia. Sentiamoci insieme come ne parlava qualche tempo fa. Questo premio lo chiamo premio Stalin perché viene sempre dato solo e esclusivamente a chi è molto vicino alla sinistra, o per posa o per convenienza. Quindi a lei non glielo daranno mai? No, non solo non me lo daranno mai, ma quando anche impazzissero e me lo dovessero dare, lo rifiuterei. Ecco, stai tranquillo Feltri perché a te non lo danno. Però l'hanno appena dato a suo figlio Mattia. Ora, povero Vittorio. Intanto praticamente ha scoperto appena in questo momento che suo figlio è Stalinista. Che per Feltri è peggio dell'apertura di un centro di immigrati davanti alla sua villetta di Bergamo. Quindi adesso, come minimo, costringerà Mattia a restituire il premio dopo averci cagato sopra. Ho usato questa colorita espressione non a caso perché il suo giornale, Libero, ha dedicato mezza pagina a questo simpatico attrezzo. Lo scuotti-potti. Allora, lo scuotti-potti, eccolo vedete, è un rialzo per i piedi che agevolerebbe l'evacuazione. Se a Mattia hanno dato il premio E giornalismo, a Libero che ha dato tutta questa rilevanza a questa notizia, allo scuotti-potti, minimo devono dargli il Pulitzer. Ora, se mi date qualche minuto vado a procurarmi una scrivania con sotto una pedanina della salute. Grazie.